Clelia Galantino lascia la presidenza del Tribunale di Arezzo. Manca ancora l'ufficialità ma si tratterebbe di una richiesta di pensionamento anticipato che, se approvata, scatterebbe dal prossimo settembre. La notizia ha iniziato a circolare nel pomeriggio di mercoledì, non senza stupore, nel mondo degli addetti ai lavori. Clelia Galantino, nata in Puglia il 30 agosto 1950, era alla guida del Tribunale di Arezzo dal 2014, precedentemente presidente della sezione penale a Bari, si era occupata di importanti processi come quello a carico dell'imam del Belgio e dell'informatico francese, accusati di terrorismo internazionale, riconosciuti poi dai giudici come capi e promotori di un'organizzazione transnazionale incaricata di reclutare e addestrare e finanziare kamikaze. È stata la prima donna a ricoprire l'incarico di presidente ad Arezzo. Nel 2017 era stata infine proprio lei con un'ordinanza a mettere al bando berbuda, canottiere, ciabatte ed abiti succinti nelle aule di giustizia a retine, con tanto di cartello affisso su ogni porta che dà accesso alle aule dove si svolgono le udienze.